10 partite! Persino a destra 10 partite a giocare! Chi ha piato? Chi ha piato Zeman? Casirachi, Peppe Signori, Rambaudi, Di Matteo, Winter, Diego Fusser Quali sono i giocatori che fanno? Cescenco Buongiorno, pure ieri stanno andando a Cescenco Lo voleva quando non era ieri E guarda, vedi con me? E' roba no! E' roba! E' roba! E' roba! E' roba! Non valeva un cazzo no! 44 miliardi! 44! Ce l'ha preso prima! Ha fatto 3 con la Champions League Ce l'ha preso già prima! C'è giù lì! E' giù lì! E' giù lì! Chi so? Si ha risposto, chi so? Si ha veduto 3 birrocchi ragazzi Si ha cominciato a arrapparlo a caduto Ho potuto andare a Roma ma se non lo sai C'ho anni C'ho anni stappato l'asco Quante che pena? Quante che pena? Quante sai di più male? C'ho 700 secondi Non sarà il frigorifero Ma la corrente federale rimane attaccata C'è giù? Perchè? 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 Si Giovanni Perchè? 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 Buu Imello Guarda tu? Quale? Perchè? Di giogno Si bello! Si bello! Si bello! Si bello ritorna! Si bello ritorna!